Siamo qui da Diablo19971 Matteo 98 Inter per parlarvi Per parlarvi del nuovo Di una nuova serie che faremo, Harry Potter Lego Harry Potter Non si sa se la faremo perchè dobbiamo mettere a posto il canale Ragazzi, una cosa volevo dire Fai veloce Per i game capture HD2 Ci sono 6 problemi 1 perchè non ho la carta di credito, non posso usarla Quindi ragazzi, io ve lo farò arrivare Perchè Sirion se lo conoscete Io si è un youtuber molto bravo Non si sa come fare Quindi grazie Sirion Lo ringrazio, questo è un convito per ringraziarlo Grazie Sirion E andiamo avanti, abbiamo l'unboxing Harry Potter Ragazzi, sono Dili da dove inizia la storia Allora, parte da Il primo che se non sbaglio Ragazzi, ditatemi Pietro a filosofare Camerai segreti Smerzate un altro Pietro a filosofare Camerai segreti Prisionerai di Askaban E calici di fuoco Pietro a filosofare Camerai segreti Prisionerai di Askaban E calici di fuoco Questi sono i 4 raccontati qui Veramente molto bene Dalla L'ha fatta in Nintendo Ovviamente C'è la Wii Quindi la Wii Diciamo che Per i bambini piccoli Può andare anche bene Andiamo a unboxare E andiamo a vedere Il libretto Che questo ragazzi La Nintendo La spalla Ha fatto No aspettati Questa spalla Aspettate un attimo Dopo vedremo le spalle Vedete che bello Dove è male Le muscolose Harry Potter Vedete E dopo c'è Il rietto L'ho schiacciato Sono Ti dicono tutto Il manuale Pagini Quante pagine sono? Sono ben Ragazzi Occhio Tenetevi forte Aspettate un altro Che sto Ben 5 pagine No Su una ventina di pagine Ma questo è un bel manuale Ricco Dopodiché La Casa Nintendo Che produce sempre Sti Cosi Della Avvertenze Avvertenze Cazzo E dei Lego Vedete Il Lego Harry Potter Allora Andiamo subito a vederlo Nanni Abbiamo un'altra cosa Ragazzi Per voi Per gli amanti Dell'anime Del Film Tutti gli episodi In edicola Ma da tanto Perché è finita La serie Il cd Della Harry Potter E vi diciamo Già Che è solo Per la We In teoria Pal No Aspetta È uscito Per l'Xbox 360 Play 3 Wii E PSP Non vorrei dire Cavolata IBS Tutte le piattaforme Qui ci sono Le avvertenze Per da 7 Di violenza Da 7 anni Più Non è di violenza Ragazzi Beh Violenza Dai E di paura Perciò Matteo Non puoi usarlo Che sei Sorsi Il sorsi Che ti fa paura Ragazzi È una bella copertina I sorsi Con il cavia e carota Dai Vabbè Lo facciamo Quindi ragazzi Questi sono i manuali Ciao a tutti Appunto Ciao a tutti Da Matto Inter Diabolo 1997 15 Ciao 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 Grazie a tutti